amici buongiorno e bentornati sul canale finalmente dopo qualche settimana dove il brutto tempo ha imperversato e non mi ha permesso di andare in montagna questa mattina c'è sereno e quindi ne ho approfittato c'è un freddo incredibile quando ho lasciato la macchina c'erano zero gradi d'altronde siamo quasi alla metà di dicembre e quindi è giusto così questa mattina sono salito fino nel piccolo paesino di erve un piccolo paesino della val san martino sopra calozio corte e mi sto cingendo a salire al monte magnodeno una volta arrivato nel piccolo paesino di erve posto a circa 600 metri di quota ho lasciato la macchina in questo ampio parcheggio che vedete ora e che trovate non appena entrate appunto nel paese ma comunque non è l'unico parcheggio della zona in quanto la zona sia in inverno ma soprattutto in estate è abbastanza frequentata dagli appassionati di montagna perché ci sono diversi sentieri tra cui quello che porta al resegone una volta lasciata la macchina dovete proseguire la strada verso il centro del paese al primo ponticello dovete girare a sinistra e seguire le indicazioni per il borgo di costa lottiere poi una volta arrivato nel borgo facendo come vedete alle mie spalle una strada asfaltata inizierà il sentiero che ci porterà appunto al monte magnodeno ad un tratto mentre salita la strada incontrerete questa scala con questo cartello che vi indica appunto diciamo una piccola scorciatoia per evitare di fare diciamo i tornanti della strada fa guadagnare pochi minuti però tutto aiuta camminando verso la frazione costa lottiere arriverete ad un altro grande bel parcheggio dove potete parcheggiare la macchina e come dove vedete c'è la segnaletica per salire al magnodeno che indica appunto da quella parte però non sarà questo il sentiero che farò io questo lo farò scendere in quanto ho intenzione di salire dalla parte della croce di vicerola una piccola croce dove c'è una bella vista sulla valle sottostante e da lì salirò e facendo un giro d'anello tornerò appunto poi da quella parte entrambi i sentieri che salgono hanno più o meno la stessa distanza quindi grosso modo dovrei metterci attorno alle due ore due ore e mezza a salire e altrettanto a scendere non sono particolarmente difficili sono entrambi i sentieri nel bosco dove diciamo bisogna comunque fare attenzione come sempre in montagna però diciamo non presentano particolari difficoltà mentre salite lungo la strada arriverete a un certo punto quando sulla vostra sinistra incontrerete questo gruppo di case che è la località Saina che alla vostra destra vedrete dei cartelli che portano appunto al monte magnodeno non dovete prendere quelli perché quel sentiero si ricollega a praticamente a quello che abbiamo visto prima nel parcheggio dovrete continuare appunto per la località Saina per circa un cinque minuti saremo ancora sulla strada asfaltata dopodiché si entreranno nel sentiero vero e proprio meno male che questa mattina mi sono vestito di tutto punto ho guardato le previsioni prima di uscire quindi anche le temperature e mi sono bardato ben bene con guanti scaldacollo con cappuccio incorporato il mio giubbetto tecnico regalato da mia figlia cui mando un bacione e quindi mi sono coperto ben bene proprio perché la giornata è bella fredda come dicevo prima c'erano circa zero gradi e tutta la rugiada ghiacciata qua attorno lo dimostra c'è da dire che camminando se non altro ci si scalda abbastanza però bisogna camminare bello veloce se non il freddo ti regna nelle ossa e non si toglie più come tutti i piccoli borghi un po dispersi sulle montagne anche questo di Saina oramai non ha moltissimi abitanti anzi decisamente pochi però mentre entravo nei vicoli appunto di questa piccola frazione ho visto anche un fiocco azzurro di una nascita e quindi vuol dire che questa piccola frazione ha un nuovo abitante dopo circa 20 25 minuti sulla strada asfaltata e superato il piccolo borgo di Saina la strada asfaltata appunto finisce e comincia il sentiero vero e proprio questo sentiero agro silvopastorale ah che bello arriva il sole che come potete vedere alle mie spalle è un bel sentiero in terra battuta neanche difficile da fare almeno per ora perché so che fino alla croce di Vicerola sarà un sentiero tranquillo dopodiché comincerà a salire un pochino più imperviamente fino ad arrivare al Magnodeno ma comunque già dopo pochi minuti di strada si può godere un panorama che ora vi faccio vedere siamo al 9 dicembre quindi l'inverno sta arrivando però devo dire che questi bellissimi aceri alle mie spalle con i loro forti colori autunnali rendono l'atmosfera veramente bella è proprio vero che se si è appassionati di montagna ogni stagione ha qualche cosa di bello da regalarci e dopo quasi 45 minuti di cammino dopo aver lasciato la macchina nel parcheggio siamo arrivati a quella che la nostra prima tappa la croce di Vicerola una volta arrivati qua alla croce di Vicerola c'è questa bellissima terrazza dove potete vedere la pianura sottostante con l'abitato di Calozio Corte e quello che vedete lì invece è il lago di Olginate dopo passato il lago di Olginate il fiume torna ad essere il fiume Adda e prosegue fino a sfociare nel Po alle spalle della croce di Vicerola invece potete vedere il Monte Resegone e invece da questa parte accidenti questo sole c'è quello che è il sentiero che sale da qua va a finire fino su quella cresta dopodiché e continueremo in cresta fino ad arrivare appunto al Monte Magnodeno guardate che bellissimo cielo comunque scendendo dalla croce fate i pochi metri che vi avevano separato dal sentiero e come vedete dietro di me c'è la cartellonistica che indica appunto la salita per il Monte Magnodeno salendo di qua si va appunto verso il rifugio del Monte Magnodeno mentre andando da questa parte si torna verso la piccola frazioncina di Somasca ho approfittato in questa piccola pausa alla croce di Vicerola anche per togliere cappuccio e scaldacollo i guanti perché la temperatura si è alzata un pochino si sta un pochino meglio ma anche perché so che da questa parte il sentiero è abbastanza ripido e quindi ci penserà lui a farmi scaldare per bene quindi una volta che intraprenderete questa parte di sentiero prendetela con un pochino più di calma perché sennò vi farà mettere la lingua fuori ne approfitto di un attimo di pausa per riposarmi un momentino per dirvi che il sentiero è sì ripido ma non presenta nessuna difficoltà quindi lo potete fare ognuno di voi logicamente in base alle proprie capacità va fatto con la giusta velocità ma ora riprendiamo alta piccola pausa in questo bellissimo slargo che mi permette di farvi vedere il panorama in questa bellissima giornata oltre quelle ciuffi di erba c'è un bellissimo dirupo che arriva fino diciamo a somasca tranquilli papà e mamma non mi avvicino e vi faccio vedere anche dove abito io praticamente in quel paesino lì chi è pratico della zona più o meno avrà capito che paesino può essere ma ora bando dalle ciance ricomincia il nostro cammino manca pochissimo arrivare diciamo in cresta dove in cresta continueremo appunto fino al rifugio mi sa che il brutto tempo fatto nei giorni scorsi non ha invogliato molto la gente ad andare in montagna in quanto pur essendo sabato non ho ancora trovato nessuno vero è che magari non è un sentiero super battuto però comunque proprio nessuno nessuno non mi dispiace perché comunque quando vado in montagna lo faccio per godermi il silenzio e la pace della montagna anche se comunque se per caso mi trovate che doveste riconoscermi salutatemi pure che sono sì orso come dice ogni tanto mia moglie però mi piace anche chiacchierare e quattro chiacchiere con chi mi segue le faccio sempre molto volentieri ma anche con chi non mi segue salita finita dopo circa una mezz'oretta più o meno fatta con calma appunto di salita sono arrivato diciamo in cresta alla montagna dove vedo due panno vedo intravedo due panorami da questa parte ve lo faccio vedere tra un po c'è la città di lecco mentre alla mia destra c'è l'abitato di erbe ora il percorso prosegue appunto diciamo la dorsale di questa montagna con una serie di saliscendi e dovrei arrivare senza fare tanta fatica al rifugio tra circa un'altra mezz'oretta come vedete alle mie spalle nonostante non siamo una quota elevata saremo attorno ai mille metri le piogge nei giorni scorsi ci hanno regalato una piccola spruzzatina di neve un piccolo anticipo dell'inverno una volta arrivati in vetta il sentiero è veramente molto bello tutto pieno di saliscendi fatica zero è un bel sentiero in mezzo al bosco anche abbastanza diciamo tracciato e quindi non si fa fatica a perdere l'orientamento nonostante le moltissime foglie l'unica cosa è che con tutti questi saliscendi la meta la si vede sempre però finita una salita c'è una discesa un'altra salita un'altra discesa fatto sta che quello che in linea retta può essere ipoteticamente un chilometro per effetto di tutti questi saliscendi i chilometri diventeranno due o tre e quindi continua a vedere la meta sempre lì vicino però continua a restare sempre abbastanza lontano comunque adesso sono arrivato ad un bivio il bivio che mi porta al piccolo bivacco corti come vedete questo è il bivio e quello è il piccolo bivacco corti che ora ci vado a fare un giretto prima di andare però vi faccio vedere un altro sentiero che sale appunto al magnodeno una volta diciamo lasciata la macchina nella piccola frazioncina di somasca anche lì si può seguire il sentiero che va in direzione del rifugio camposecco subito dopo il rifugio sulla destra c'è un sentiero abbastanza ripido anche quello che arriva appunto qua e poi sale da qua e si congiunge diciamo quello che ho fatto io per andare al magnodeno ma ora andiamo a vedere il bivacco vi voglio portare questo piccolo bivacco anche decisamente spartano non solo per il bivacco ma per farvi vedere questo questo cipo datato attorno al 1700 divideva quello che era l'allora stato di milano dallo stato veneto della serenissima praticamente era un termine di confine ora invece mi accingo ad aprire la super sicurissima serratura che chiude il bivacco e vi faccio vedere all'interno ecco all'interno come vi dicevo il bivacco è decisamente spartano però devo dire che in situazioni di emergenza o anche solo per fare una pausa dall'eccessivo caldo dall'eccessivo freddo decisamente quello che ci vuole la legna non manca il cammino è un bellissimo cammino anche abbastanza grande credo sia dotato di pannelli solari in quanto c'è una lampadina una piccola radiopile e un piccolo armadietto che credo sia sì l'armadietto della dispensa qualche cosina da mangiare una bombola per il fornelletto e un po di carta sia per pulirsi le mani che per fare i propri bisognini siccome il bivacco è sì gestito da alcuni volontari ma anche dal buon senso di chi ne fa utilizzo avendolo sporcato con la palta che avevo sotto le scarpe trovo corretto e decisamente educato fare anch'io la mia parte quindi come vedete sto pulendo il pavimento dopodiché una volta ridepositata la scopa chiudiamo nuovamente la porta e ripartiamo lungo il sentiero chiudendo bene la serratura subito dietro il piccolo bivacco il sentiero comincia a risalire ed ora so che di saliscendi non ce ne saranno più quindi veramente ora la vetta si avvicina dopo circa una decina di minuti di salita dopo il bivacco comincia quello che è diciamo la parte un pochino più impegnativa del sentiero che come vedete fa alcuni passaggi su roccia niente di che male che vada ci sarà ad attaccarsi un pochino con le mani però non è né pericoloso non c'è presenza di dirupi né niente sono solo pochi minuti di salita lungo questo sentiero un pochino più roccioso ma ora affrontiamo ora cominci a aprirsi un pochino il panorama è quello che vedete ora il grignone completamente innevato il resto del panorama però non ve lo faccio vedere in quanto aspetto di arrivare sulla vetta che è la per farvelo vedere in tutti i 360 gradi come vedete ora siamo arrivati al passo tre croci effettivamente siamo molto molto vicini a quello che è il nostro traguardo che è lì sopra poco più di dieci minuti di cammino pensavo di metterci sinceramente meno prima vi ho detto che in una mezz'oretta o poco più sarà arrivato invece vuoi per le pause vuoi per i numerosi saliscendi che hanno fatto diventare veramente lungo il sentiero credo che ci metterò circa un'oretta però non mi corre dietro nessuno ora vedo che su un rifugio qualcuno c'è quindi all'alba delle 10 45 qualcuno sta arrivando ma ora affrontiamo questo ultimo strappetto finale e poi vi faccio vedere la vista spettacolare sull'ecco questo pezzettino che sto affrontando ora con la neve è pieno di piccole impronte di uccelli che molto probabilmente per colpa per merito di questa pianta che è piena di bacche rosse credo vengano a mangiare e quindi devo dire che ci saranno una ventina di metri di questa piccola parte innevata tutta piena di punti impronte di questi uccellini che molto probabilmente vengono a fare il loro pranzo ora approfitto di questo bellissimo punto panoramico per farvi vedere un pochino lo sviluppo del percorso tra parentesi non sono ancora arrivato mi manca cinque minuti di salita allora quella che vedete là sotto è la frazione di saina noi in poche parole siamo arrivati da lì dietro a piedi fino a qui era strada asfaltata dopo da qua è cominciato il sentiero aggirando la montagna siamo saliti sulla vetta di questo monte e dopo con tutti i suoi saliscendi abbiamo percorso la cresta e su e su e su e su fino arrivare lì sopra dove sono ridisceso momento per risalire di qui e affrontare gli ultimi due minuti cinque minuti che mi mancano per arrivare lì sopra a scendere invece ripartendo sempre da lì sopra scenderemo lungo quel crinale che se ci fate caso lì intravedete il sentiero e camminando sulla cresta di questa montagna che praticamente corre parallela dove siamo arrivati prima scenderemo ancora con un po di saliscendi nella vallata fino a tornare al punto dove abbiamo lasciato la macchina ed eccomi è arrivato quella che vedete alle mie spalle la croce del magnodano quello che vedete dalla parte di là è il passo di valcava non so se riuscite entra a vedere le grandi antenne della tv e quello che state per vedere ora è il bellissimo panorama sul lago sui laghi della pianura padana e su tutte le montagne che ci circondano non so se riuscite entra a vedere le grandi antenne della tv e quello che si riuscite è ripartare non so se ci stavano ma a e Ed ora facciamo volare il drone. Ed ora facciamo volare il drone. Ed ora facciamo volare il drone. Ed ora qua dalla piazzola di atterraggio dell'elicottero con questa bella immagine del resegone alle spalle. Ho rimesso il giubetto, ho già preparato lo zaino, sono riuscito a far volare anche un pochino il drone, non moltissimo perché chi ha il drone lo sa, ci sono delle restrizioni per noi che li facciamo volare. Avendo l'eco la zona di atterraggio dell'elicottero di soccorso non potevo volare sopra i 45 metri e oltre una certa distanza. E quindi rispettoso delle regole mi sono limitato a fare fare un girettino attorno al rifugio appunto. Comunque visto che fa freddo ho appunto rimesso il giubetto ed ora si parte verso la discesa. Come vi dicevo prima farò un sentiero diverso in modo da farvi vedere come dico sempre un panorama diverso. Ma ora partiamo. E rieccomi in cammino. I primi 5-10 minuti di cammino a scendere dal nuovo sentiero sono un pochino ripidini e da fare attenzione in quanto su Ghiaia. Giusto appunto 5-10 minuti dopo arrivati ad un baitello che già intravedo il sentiero torna ad essere tranquillo e dopodiché ci infileremo nel bosco e sarà più o meno come quello che abbiamo fatto salendo. Vedete questo piccolo baitello con una vista impagabile sul resegone messo in un posto tranquillissimo che finisce il tratto ripido diciamo il primo tratto ripido a scendere per andare verso la macchina. Ora camminando tutto in cresta è poco più di una passeggiata e quindi mi potrò rilassare un pochino facendovi vedere qualche bella immagine del panorama che mi circonda. Approfitto di questo tratto pianeggiante anche per darvi due cenni riguardo a quella che è stata la salita. Un attimo vi voglio far vedere che alle mie spalle ora c'è un altro cippo come quello che abbiamo visto salendo che divideva appunto lo stato della Serenissima dallo stato di Milano e qua ecco non l'avevo visto c'è anche come vedete la descrizione in poche parole ora ve lo leggo è un cippo storico il numero 32 dell'anno 1781 che divideva appunto lo stato Veneto dallo stato di Milano. Comunque vi stavo dicendo visto che il terreno è abbastanza pianeggiante e me lo permette volevo darvi duecenti anni riguardo alla salita visto che quando sono arrivato in cima poi ho fatto volare il drone ho mangiato e poi mi sono rivestito e sono partito perché sinceramente c'era un'aria abbastanza fredda. Comunque siamo partiti da Erbe che è circa 600 metri e dopo circa tre ore poco più di tre ore tre ore dieci minuti sono arrivato sul Monte Magnodeno a 1241 quindi teoricamente sarebbero un 700 metri di dislivello però l'orologio me ne ha dati circa 850 perché con tutti i saliscendi che ho fatto a salire il dislivello positivo è aumentato un pochino. E comunque visto che qualcuno dei miei amici che mi segue mi ha fatto presente che sarebbe interessante trovare anche un piccolo screenshot una descrizione con i dati di salita quindi altitudine di partenza altitudine di arrivo la tempistica così se seguite il video fino alla fine troverete appunto questa descrizione che da oggi in poi metterò in tutti i miei video ringrazio tutte le persone che mi commentano dandomi queste dritte perché credo che non sia da vedere come una cosa brutta anzi una cosa bella perché aiutano le persone appunto che guardano il video ad avere un'idea molto più precisa di quello che è l'escursione che dovranno fare e quindi ringrazio tutti voi che mi date consigli quindi se avete qualche cosa da dire commentate che vi sarà sempre risposto con piacere e come vedete se date commenti interessanti li metterò anche a frutto ma ora continuiamo la passeggiata ora la parte pianeggiante in cresta è finita siamo rientrati nel bosco e devo dire che si è cominciati a scendere abbastanza velocemente il sentiero è praticamente simile a quello dell'andata un bel sentiero nel bosco senza particolari difficoltà né diciamo questa gran fatica almeno per ora è abbastanza tranquillo come vedete alle mie spalle è molto bello da fare e vista la velocità con cui si scende credo che sia un pochino più corto e arriveremo alla macchina diciamo prima rispetto che se avessi fatto quello che ho fatto salire come vedete sono ritornato nel parcheggio il parcheggio dove avevo lasciato la macchina purtroppo oggi ho fatto i conti senza l'oste nel senso che solitamente porto la batteria per poter diciamo cambiare nella videocamera oggi sapendo pensando che fosse un'escursione un po' più corta e quindi che non mi servisse non l'ho portata solo che non ho fatto il conto con il freddo che fa scendere la batteria di carica molto più velocemente a parte che comunque nell'ultimo tratto il sentiero non era molto illuminato in quanto il sole era già andato via e non avrei fatto grazie a dio delle grandi riprese comunque mentre scendevo faccio una piccola parentesi mentre scendevo ho incontrato una coppia di signori un signore una signora che vorrei salutare e a cui vorrei chiedere scuse in quanto ho chiesto la possibilità di riprenderli dalle spalle perché il signore aveva un giubbotto di quell'arancione molto fosforescente quello diciamo che usano i volontari del soccorso e di cui volevo fare un appunto nel video che riguardava appunto il fatto di portare sempre un abbigliamento abbastanza è evidente anche nello zaino perché comunque le condizioni di luce in montagna potrebbero cambiare abbastanza spesso e avere qualche cosa che ci fa riconoscere a distanza può essere sempre utile soprattutto in questo periodo dove la caccia è aperta e quindi diciamo è anche un motivo di sicurezza però siccome nel momento stesso in cui gli ho chiesto di poterli riprendere hanno deviato il loro sentiero rispetto al mio non ho osato dire di aspettare e fargli questa piccola parte di video e quindi non l'ho fatta e siccome mi avevano chiesto un attimo prima interessati del mio canale quale fosse il nome per cui andare a vedere su youtube magari mi stanno guardando e appunto li saluto e li porgo le mie scuse per non averli inseriti nel video comunque diciamo che l'ultimo tratto di sentiero è stato molto facile mi ha riportato praticamente nella frazione di costalottiere decisamente alla svelta in un'ora e quindici sono praticamente sceso dal magnodono fino praticamente quasi fino a qua un'ora e quindici ero nella frazione costalottiere poi poco più di 5 minuti sono arrivato al parcheggio il giro è stato molto bello anche da questa parte decisamente semplice e lo consiglio, consiglio questo giro d'anello che permette comunque di vedere dei panorami diversi se vi è piaciuto anche a voi mi raccomando pollicione in su condividete il video con tutte le persone del mondo per aiutare il mio canale a crescere e se non siete iscritti l'iscrizione al canale il mio è un piccolo canale che parla di escursioni in montagna se ti piace andare in montagna prova a guardare qualche video e se ti piace iscriviti e mi raccomando se lo fai fai anche il segno di spunta sulla campanella che così la prossima volta che pubblicherò un video ti arriverà un avviso e vedrai un posto nuovo dove magari ti piacerebbe andare che altro dire non mi resta che salutarvi e darvi la rivederci come dico sempre alla prossima puntata di dove vi porto oggi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao